Una nuova udienza, forse l'ultima prima della decisione finale. Attende al Great Ormond Street Hospital Charlie, il piccolo di 11 mesi affetto dalla sindrome da deplezione del DNA al mitocondriale. La sua vita, tra poco compirà un anno, resta appesa ad un filo, annodato tra il diritto alla vita e volontà dei medici, finita in tribunale. Di fronte all'alta corte di Londra, chiamata a pronunciarsi, la famiglia Gard continua a combattere come nell'udienza di oggi. La giustizia inglese dovrà poi esaminare la documentazione delle visite del luminare Michio Irano e di Enrico Silvio Bertini dell'ospedale Bambin Gesù. Con loro il mezzo milione di persone che ha firmato una petizione e ha raccolto oltre un milione di sterline per consentire, se il tribunale lo autorizzerà, al trasporto del piccolo al Presbyterian Hospital di New York perché venga tentata la nuova terapia, la Nucleoside Therapy. E intanto il mondo si è acceso di blu, come Venezia, per non spegnere la luce della speranza.